Soffici e super golosi, questi muffin al cioccolato con le fragole sono perfetti per la colazione o la merenda. Taglia le fragole a cubetti. Per evitare che affondino nell'impasto, ricopri le di farina, poi tieni da parte. In una ciotola sbatti le uova, il latte e l'olio di semi. Aggiungi anche lo zucchero e mescola facendolo sciogliere bene. È il momento della farina, il cacao e il lievito. Mescola fino a far amalgamare bene tutti gli ingredienti, ottenendo un composto liscio, proprio così. Aggiungi della golosità extra, versa le gocce di cioccolato e mescola bene. Una volta distribuite, puoi aggiungere anche le fragole. Una bella mescolata e l'impasto è pronto per essere versato nei pirottini. Iscriviti al canale per non perdere le prossime idee facili e gustose! In forno a 180 gradi per circa 20 minuti. Sono pronti! Guarda che belli, soffici e con un interno buonissimo che ti farà innamorare! Grazie! 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 Grazie!